È il prodotto tipico del posto e la comunità lo celebra con un museo. Il fungo è il vero protagonista della gastronomia di Pian di Meleto. Il museo sorge nella frazione di San Sisto e raccoglie oltre 200 ceppi realizzati in gesso, riproducenti le specie più diffuse dei funghi che si possono trovare nel Monte Feltro. Nel Borgo a fine settembre si tiene anche una celebre festa del fungo. L'arredare questo luogo con queste forme che rappresentano i funghi è qualcosa che rende vivo tutto l'anno questo momento del fungo che invece si vive a fine settembre, primi di ottobre. Sono fatti molto bene per chi dal punto di vista didattico, infatti ci vengono anche le scolaresche, vuole avvicinarsi a questa passione oppure semplicemente per osservare la natura riprodotta fedelmente uno viene qui e si trova sicuramente bene. Se uno vuole appassionarsi, anche se oggi ci sono delle app che ci mettono in condizioni di riconoscerli, bisogna prenderli sempre con le pinze perché a volte le riprese non sono definitive e a volte anche i funghi, a seconda dove crescono, modificano il proprio colore. Nelle didascalie vengono riportate le caratteristiche dei funghi in questione, per ognuno di essi viene indicato se è commestibile, tossico, velenoso o legnoso, un modo per vedere da vicino la natura e le sue forme colorate. Il consumo è un qualcosa invece che va visto con molta attenzione, con esperienza e utilizzando anche i servizi pubblici che definiscono con le loro conoscenze quello che è compatibile con l'alimento. Gran parte di questi funghi rappresentati qui li troviamo sul territorio, infatti qui c'è nella cultura popolare, c'è la raccolta del fungo, del tartufo, è molto forte, insomma siamo in un luogo dove questa cultura è riprodotta anche sulle nuove generazioni. Una delle cose più importanti è quella appunto di vedere che la natura ci propone una varietà di esseri che ci mettono in condizione veramente di soddisfare il nostro bisogno di colore, il nostro bisogno di forme, il nostro bisogno di capire anche la diversità.